Con questa esercitazione Java vedremo come si può creare l'istanza di una classe. Per eseguire l'esercitazione dovete scaricare e installare il Java Development Kit e l'IDE, l'ambiente di sviluppo integrato Eclipse. Io vi propongo questi due link per andare nei vari siti, nei corrispondenti siti, ad effettuare il download. Ora, supponiamo di avere a disposizione la classe Persona. Di questa classe noi possediamo solo il bytecode, cioè il codice intermedio, che è stato creato dal compilatore Java. Il codice si trova all'interno del file Persona.class. Inoltre, per la classe Persona abbiamo a disposizione anche la documentazione della classe, indispensabile per poter utilizzare i vari metodi, visto che non conosciamo i sorgenti. Supponiamo ora di voler scrivere un semplice programma, che si chiama UsaPersona, ed è salvato all'interno del file con lo stesso nome UsaPersona.java, che crei una persona solo se questa è maggiorenne. Andiamo un attimo ad analizzare la documentazione della classe Persona di cui siamo in possesso. Allora, questa classe è una classe che rappresenta una generica Persona con un nome e un'età. Inoltre, ha un solo costruttore. Il costruttore ha come parametri il nome della persona, che è una stringa, e l'età, che è un intero. Per quanto riguarda i metodi, la classe Persona ha il metodo getEtat, che restituisce l'età della persona, quindi restituisce un valore intero. Il metodo getNome, che restituisce il nome della persona, cioè una stringa. Il metodo setEtat, che consente di modificare l'età della persona, in particolare l'età verrà modificata al nuovo valore che viene specificato come parametro. Questo metodo non restituisce alcunché, cioè restituisce void. E inoltre, abbiamo a disposizione anche il metodo toString, che restituisce una descrizione dell'oggetto in formato stringa. Questo metodo viene utilizzato per poter effettuare l'output dell'oggetto, senza andare a produrre, appunto, in output ogni singola variabile. Potete vedere in questa pagina l'algoritmo espresso con un diagramma di flusso, rappresentato con un diagramma di flusso, e a fianco il codice che andrò a scrivere, poco per volta. Allora, vediamo quali sono i passi di questo algoritmo. Per prima cosa dobbiamo acquisire in input l'età, verificare che l'età sia maggiore o uguale a 18. In caso affermativo, chiediamo di inserire in input il nome della persona, creiamo l'istanza della persona, la chiamiamo P, produciamo in output l'istanza P. In caso contrario, cioè se l'età è minore di 18, andremo a produrre in output la stringa minorenne. Passiamo alla codifica del primo blocco, input età. In Java utilizziamo le finestre di dialogo per far rimettere all'utente l'input. Il metodo che utilizzeremo è il metodo showInputDialog. Questo è un metodo statico della classe JOptionPane, pertanto va richiamato anteponendo al nome del metodo il nome della classe e separandolo da esso con un punto, JOptionPane. Il parametro che passiamo a questo metodo è la stringa che vogliamo che venga visualizzata l'utente. Per esempio, inserisci età. Tutto ciò però non è sufficiente, perché se noi vogliamo acquisire questo dato in input e utilizzarlo successivamente, dobbiamo salvarlo in una variabile. definiamo pertanto una variabile locale di tipo intero che chiameremo età e ad essa scusate ma word fa un po' quello che vuole int età uguale JOptionPane ecc. C'è ancora un piccolo problema da prendere in esame. Tutto ciò che noi andiamo a inserire da tastiera è una stringa. In questo caso però noi vogliamo inserire un intero, pertanto è necessario effettuare un'operazione di conversione della stringa in intero. Per poter ottenere questo risultato bisogna utilizzare il metodo parseInt della classe Integer Anche questo è un metodo statico, quindi va richiamato scrivendo il nome della classe Integer punto parseInt Adesso aggiungiamo solo le parentesi tonde e il primo blocco è stato codificato. Per rappresentare la condizione, c'è il blocco 2, andiamo a scrivere un'istruzione if if aperta tonda all'interno delle parentesi tonde inseriamo la condizione eta maggiore uguale 18 chiusa tonda e poi siccome le istruzioni che devono essere eseguite se la condizione vera sono più di una occorre aprire una parentesi graffa cioè occorre aprire un nuovo blocco il blocco 3 di nuovo acquisisce in input attraverso una finestra di dialogo il nome della persona l'istruzione è simile a quella che abbiamo visto in precedenza tranne per il fatto che siccome inseriamo una stringa e vogliamo acquisire una stringa non sarà necessario effettuare la conversione in intero anche qui definiamo una variabile locale per contenere l'input inserito è una stringa che chiamiamo nome e ad essa andiamo ad assegnare j option pane punto show input dialog e tra parentesi come parametro passiamo una stringa che è quella che l'utente vedrà comparire a video inserisci nome per quanto riguarda la creazione dell'oggetto P cioè dell'istanza della classe persona dobbiamo utilizzare il costruttore della classe vi ricordate abbiamo visto prima consultando la documentazione che il costruttore che si chiama come la classe quindi persona con la P maiuscola ha due parametri che nell'ordine sono il nome della persona che stiamo creando e l'età noi il nome lo abbiamo nella variabile nome e abbiamo anche l'età nella variabile età pertanto per creare l'oggetto P andremo a scrivere persona P questa equivale alla dichiarazione della variabile P di tipo persona uguale new new è l'operatore che permette di creare istanze di classi persona è il costruttore della classe e poi passiamo come parametri in questo caso parametri attuali il nome che abbiamo acquisito in precedenza e l'età non ci rimane altro da fare per quanto riguarda il ramo true vero che andare a produrre in output l'oggetto useremo a tal scopo il metodo show message dialogue sempre della classe j option pane sempre metodo statico scriviamo pertanto j option pane punto show message dialogue tra le parentesi tonde dobbiamo specificare i parametri il primo parametro sarà per questi primi esempi sempre null sarà questo valore diverso quando inizieremo ad utilizzare le interfacce grafiche il secondo parametro invece è l'oggetto p attenzione l'oggetto p può essere stampato in questo modo e come vedremo a breve otterremo il nome della prima variabile distanza cioè nome seguito dal suo valore il nome della seconda variabile distanza età seguita dal suo valore proprio perché abbiamo all'interno della classe persona definito cioè è stato definito il metodo toString nel caso in cui una classe non abbia il metodo toString definito all'interno purtroppo viene prodotto in output non il valore delle variabili di distanza dell'oggetto ma una qualcosa di apparentemente strano un numero preceduto da una chiocciola che in realtà non è altro che l'indirizzo di memoria dove l'oggetto è effettivamente allocato infine il blocco 6 è l'unica istruzione presente sul ramo false quindi andiamo a chiudere il ramo true con una parentesi graffa chiusa e inseriamo dopo la parola chiave else quell'unica istruzione che è appunto l'output di minorenne anche qui utilizziamo j option pane punto show message dialog null virgola e la stringa minorenne possiamo terminare con con la parentesi con la parentesi graffa chiusa riepiloghiamo allora acquisiamo in input l'età della persona utilizziamo il metodo show input dialog della classe j option pane passando come parametro la stringa che vogliamo che l'utente veda comparire a video inoltre siccome dobbiamo acquisire un intero convertiamo il dato che viene prodotto in input in intero utilizzando il metodo parse int della classe integer ci domandiamo se l'età è maggiore o uguale a 18 nel caso sia così acquisiamo in input anche il nome sempre con il metodo show input dialog questa volta senza la necessità di convertire l'input in stringa poiché è già una stringa creiamo l'istanza della classe persona e chiamiamo tale istanza P passiamo al costruttore della classe persona il nome e l'età che abbiamo acquisito in precedenza produciamo infine in output l'oggetto che abbiamo creato con il metodo show message dialog sempre della classe joption pane nel caso la condizione età maggiore o uguale di 18 sia falsa andiamo a produrre in output la stringa minorenne passiamo ora ad eclipse in eclipse andiamo a creare il progetto usa persona importiamo nel progetto il nostro bytecode persona.class e poi creiamo la classe usa persona .java per creare il progetto selezioniamo file new java project nella finestra che appare inseriamo il nome del progetto usa persona e poi clicchiamo su finish e buona norma sempre creare le classi all'interno di un package pertanto clicchiamo su usa persona con il tasto destro del mouse e selezioniamo new package i nomi dei package devono essere sempre in minuscolo clicchiamo ora con il tasto destro del mouse sul nome del package e selezioniamo new class specifichiamo il nome della classe che usa persona e poi clicchiamo su finish per poter utilizzare la classe persona dentro il nostro progetto dobbiamo importarla facciamo clic su usa persona sul nome del progetto selezioniamo properties poi java build path e libraries a questo punto clicchiamo su add external jar se andiamo a cercare il file jar che contiene la classe persona il bytecode di persona è questo doppio clic vedete che il jar appare qui e a questo punto possiamo cliccare su ok in caso contrario se noi non importiamo questa libreria la classe persona non verrà riconosciuta quindi il compilatore ci segnalerà un errore per prima cosa scriviamo il metodo main la firma del metodo main public static void main string args è di fondamentale importanza andare a dichiarare il metodo main perché questo è l'entry point di qualunque applicazione una classe priva di metodo main non può essere mandata in esecuzione acquisiamo il valore della variabile età int età uguale integer punto parse int j option pane punto show input dialog inserisci età ok scriviamo la istruzione if if età maggiore o uguale 18 allora acquisiamo in input il nome string nome uguale j option pane punto show input dialog inserisci nome creiamo l'istanza di persona persona p uguale new persona nome virgola età e produciamo in output p j option pane punto show message dialog null virgola p questo punto andiamo a scrivere il codice per il ramo else else j option pane punto se voglio utilizzare queste il box con gli aiuti è sufficiente andare a cercare show message dialog e selezionarlo a volte può essere più complicato cercarlo piuttosto che andare a scriverlo direttamente parent component scriviamo null col tasto tab ci spostiamo sul parametro successivo e scriviamo minorenne mandiamo il codice in esecuzione appare la finestra di dialogo inseriamo l'età per esempio 50 ok inseriamo il nome pippo ok e come potete notare in output otteniamo persona con il nome uguale a pippo l'età uguale a 50 che sono i dati che abbiamo inserito controprova eseguiamo lo stesso programma inserendo però un valore dell'età inferiore a 18 e come potete vedere non ci viene chiesto in input il nome ma viene prodotto in output la stringa minorenne ed ecco il codice completo